Cos'è la trombosi della retina? La trombosi della vena retinica, o l'occlusione della vena retinica, provoca un blocco del normale flusso sanguigno alla retina dell'occhio. I sintomi di questa condizione possono apparire sottilmente ma poco a poco peggiorano nel tempo. I problemi cardiovascolari e altri fattori di rischio spesso contribuiscono alla formazione della trombosi oculare. I test per questo tipo di blocco valutano la visione, la pressione oculare e qualsiasi danno alla retina. I metodi di trattamento dipendono dal fatto che il blocco sia parziale o completo. Situato nella parte posteriore dell'occhio, il tessuto retinico aiuta a concentrarsi su immagini e luce, fornendo così una visione. L'operazione della retina è simile all'obiettivo di una fotocamera. La retina deve anche circolare liberamente il flusso sanguigno attraverso un'arteria e una vena per funzionare correttamente. La trombosi venosa retinica si verifica quando la circolazione sanguigna in tutto l'occhio si blocca a causa della mancanza di ossigeno. I risultati portano a un coagulo di sangue o un'emorragia in una parte della retina, che a sua volta influisce sulla visione. Il blocco può essere presente se una persona manifesta una visione offuscata o un'improvvisa perdita della vista in un occhio. Episodi di perdita della vista indistinta o temporanea possono durare non più di 15 minuti secondo fonti mediche. La trombosi della vena retinica non provoca dolore, ma i sintomi possono gradualmente danneggiare la retina e causare una perdita permanente della vista se non adeguatamente trattata. Alcune persone possono sperimentare l'occlusione della vena retinica a causa della struttura degli occhi o come risultato di una condizione medica preesistente. Le vene all'interno di un occhio possono essere troppo strette, aumentando così il rischio di blocco. Malattie cardiovascolari come la terosclerosi o l'indurimento delle arterie aumentano il rischio di sviluppare trombosi venosa retinica in un occhio. Il blocco nelle vene del corpo può anche coincidere con quelli della retina per causare trombosi. Oltre alla terosclerosi, altri fattori di rischio associati a questa condizione includono diabete, ipertensione e glaucoma. Per rilevare la presenza di occlusione venosa retinica, un medico verifica la visione e la salute generale degli occhi. Dopo aver esaminato la storia medica pertinente, il medico usa l'acuità visiva e le prove sul campo per determinare in che misura il paziente vede lettere e oggetti. Test completi quali lampade e fessura, fotografia retinica, pressione intraoculare, riflesso della pupilla e rifrazione esaminano l'interno dell'occhio per l'occlusione venosa retinica. Le opzioni di trattamento per trombosi venosa parziale totale della vena includono procedure laser e iniezioni. La fotocoagulazione laser aiuta a prevenire l'accumulo di liquidi nell'area del blocco della vena retinica. Le iniezioni di fattori di crescita endoteliali antivascolari trattano la trombosi e prevengono lo sviluppo di malattie degli occhi come il glaucoma. Tuttavia, i metodi per il trattamento della trombosi venosa retinica non invertono il blocco, ma semplicemente impediscono a quelli nuovi di formare e peggiorare la vista. La visione negli occhi alla fine ritorna, ma raramente il 100% torna alla normalità.